Adesso possiamo partire con la presentazione. È qualcosa che non volevo subito mostrare per non dare via il fine ultimo di quello che potrebbe essere il messaggino da portare a casa. Forse si tratta di cambiare proprio la nostra mentalità su quello che i filosofi chiamerebbero, senza spaventare nessuno, l'ontologia della politica. Partiamo bene stasera. Cioè, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di democrazia e di politica e dello Stato? Sembra un po' una cosa da filosofo, adesso mi metto lì, che cosa vuoi dire, che cosa intendi per... Però io spero adesso nei 45 minuti o giù di lì che abbiamo insieme di spiegare, tanto bene quanto riesco, che si tratta veramente di andare a capire, ricordate, capire per poi cambiare, per poi costruire, capire in fondo dove stanno i problemi e poi, una volta che magari questa natura ultima del politico l'hai capita meglio, l'hai capita alla luce del XXI secolo, puoi cercare di mettere le mani sul meccanismo e modificarlo. Allora, un po' come se fossi veramente un operaio, vai lì e dici, senti, ma questo attrezzo qui, ma come funziona? No, ma guarda, no, no, ma fammi vedere bene dentro, smontiamolo, perché se poi veramente l'ho capito dall'interno, poi è più facile che magari io riesca a migliorarlo, a cambiarlo, o addirittura a sostituirlo con qualcosa che oggi quel lavoro lo ha fatto molto bene, ma oggi mi serve qualcos'altro. Ecco, con questa metafora un po' sempliciotta di veramente qualcuno che vuole mettere le mani sull'oggetto, di cui l'idea che lo Stato possa essere oggi un momento di interfaccia, proprio un po' come avrebbe detto Olivetti, che menzionerò tra poco. Per fare questo lavoro attraverseremo questi punti, i punti torneranno, quindi se qualcuno poi si perde per strada, la mappina ritorna, come sempre, se qualcuno ha assistito a altre lezioni, altri momenti insieme, sa che questo è un po' lo stile, affronteremo un po' il problema, cioè qual è il problema oggi di questa democrazia, dov'è che sta un po' la difficoltà, punto 2. E poi alcune soluzioni che sono state proposte, ma bisogna migliorare i cittadini, bisogna migliorare i partiti, non sono tanto convinto e quindi una proposta leggermente diversa, non perché cittadini migliori e partiti migliori, non ci vuole certo il filosofo per dire, e grazie, non potrebbero far bene e meglio, ma perché non sta lì la difficoltà. E se noi insistiamo nel pensare che stia lì la difficoltà, continueremo a cercare di migliorare tutto questo sistema mettendo le mani, in versione manifatturiera, sulle rondelle sbagliate. Non perché non si possano migliorare, ma perché la questione sta altrove. Allora è un po' come se tu avessi questo meccanismo, continui a insistere nel riparare qualcosa che in fin dei conti, ma si guarda grosso modo, va già abbastanza bene, e ti scordi che c'è l'altra parte del meccanismo sulla quale invece dovremmo focalizzare. Questa è la conclusione. Allora iniziamo dal problema. Il problema è deprimente. Lo avverto subito. Il primo testo di Adriano Olivetti, Democrazia senza partiti, in realtà aveva un titolo diverso, Fini e fine della politica, 1949, poi viene ripubblicato nel 1953, appunto 1952, con quel titolo, e sarà poi pubblicato nel 2013. Stefano Rodotà ha una bellissima presentazione all'inizio, e io vi raccomando la lettura di questo testo. Questo testo, dicevo, è deprimente per questa ragione. Se leggete questo testo, è il 1949, ti cascano le braccia. Siamo all'apogeo. Dunque, della forza dei grandi partiti organizzati, così il regime politico attuale prende il nome, non ha torto di partitocrazia. 1949, sono passati 70 anni. Io pensavo che l'avessimo inventato recentemente il termine, che fosse una cosa, ci sai, adesso c'è la partitocrazia. Da mo' che c'è la partitocrazia. Si lamentava Adriano Olivetti, citando, tra l'altro nel testo, fonti tardo-ottocentesche, in Italia, retto da un occulto e complesso ingranaggio di interessi e di personalismi. È l'apogeo e l'inizio della decadenza. Adesso, questa cosa io l'avevo scritta prima delle elezioni. Detto questo, c'è una certa coerenza, ecco, su questo. Perché questo è deprimente? Perché, vi ricordate, continuiamo a cercare di riparare le cose, probabilmente affrontando il problema nel modo sbagliato. Cioè, non può essere che 70 anni o giù di lì di gente anche brava, lasciate stare i farabuti, i mafiosi, i corrotti, ma c'è tanta gente brava che ha fatto politica in Italia. Gente che ci ha lasciato anche la vita, la vita per sistemare meglio il Paese. E non è riuscita a far cambiare questa frase. Allora, da qualche parte ti viene il dubbio che forse stiamo insistendo sulle cose sbagliate. Qual è il problema? Questo ve lo faccio in maniera molto veloce perché potremmo passare tutta la serata su questo. Noi in realtà veniamo da un sistema di tipo politico che potremmo chiamare di post-Westfalia. Cioè, dal 1648 noi ci siamo organizzati intorno all'idea dello Stato, che ha i suoi confini, controlla fisicamente lo spazio legale ed è governato da qualcosa che è sovrano. Oggi ovviamente il sovrano è il popolo, l'altro ieri era qualcun altro. Quello che non abbiamo è l'alternativa post-Westfalia, cioè oggi, quello Stato lì, quel modo da 1648 di concepire lo Stato, veramente è un po' cambiato. Sono passati quei due o tre secoli e non è la stessa cosa, come dire, ma sai in fin dei conti lo Stato è lo Stato. Non è proprio così. Perché? Perché lo Stato è diventato una società dell'informazione. La società dell'informazione, adesso lo spiegherò gentilmente, ma ci sarebbe anche qua da passare più tempo, la società dell'informazione crea nuovi agenti, no, che al loro interno contengono agenti. Li chiamiamo multi-agent systems. Immaginate delle scatole con delle altre scatole dentro. Si possono chiamare ad esempio Unione Europea, Banca Centrale dell'Europa, oppure la Fed negli Stati Uniti, oppure la Nato. Cioè altre cose che non sono lo Stato, come l'abbiamo visto dal 1600 in poi, e questi trasformano il modo di governare in una governance molto più distribuita. Insomma, quando si dice ma dai, tanto comunque qualunque governo va lì, in fin dei conti dovrà fare i conti con l'Europa, è questo che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che in fin dei conti sì, la sovranità c'è, ma sai, è vincolata, modificata, influenzata. Allora, non è che noi siamo passati in un contesto di fine della storia. In realtà siamo diventati sempre più storici, ma non perché uno deve fare un po', come dire, lo strano, il filoso, il per storia, ma no, perché la storia è la dipendenza della nostra società da tecnologie della creazione, manipolazione e distribuzione delle informazioni, ICT, Information Communication Technologies. Si esce dalla preistoria quando hai modo di registrare il presente per il futuro, quindi con la scrittura. Noi siamo diventati sempre più storici, adesso questa relazione è una relazione di dipendenza. In una relazione di dipendenza tu passi da un contesto in cui ti bastava avere il sistema westfalico, a casa mia si fa così, a casa tua si fa colà, ognuno si fa gli affari suoi a casa propria, basta il confine, vi ricordate la territorialità della legge, che oggi non ha più senso, ciperspazio e tutto il resto, e quelle quattro cose che avevamo imparato con l'illuminismo, cioè i diritti umani, universali. Allora un po' di westfalia, un po' di illuminismo e noi grosso modo ce la cavavamo in termini di Stato. Non è che è sbagliato, ma non è più sufficiente. Qui la distinzione è importante, perché ogni tanto si sente dire, ah ma sai lo Stato oggi non serve più. No, lo Stato serve sempre di più, è sempre più necessario, ma è anche sempre più insufficiente. Allora qua servono due mani. Sempre più necessario, sempre più insufficiente. Perché? Perché ci sono altri agenti sulla scacchiera. Oggi l'Italia non può pensare di fare una politica internazionale, ma anche nazionale, infischiandosene di quello che decide la Germania, eccetera, eccetera. Oppure qual è la politica sul dollaro per l'inflazione, e così via. Oppure qual è il prezzo del petrolio, e così via. Allora tu ti ritrovi su una scacchiera in cui sei sempre più necessario, e sei sempre meno sufficiente per fare la differenza. È una situazione un po' difficile. Questo vuol dire che in questo contesto di dipendenza il problema che abbiamo politico è come facciamo a costruire questi agenti che ci circondano. Non sono agenti che emergono, come dire, dalla giungla. A un certo punto c'è l'Unione Europea. L'abbiamo costruita. L'OPEC è stato costruito. Le Nazioni Unite e tutto il resto. Sono tutte costruzioni sociali che noi mettiamo insieme. Allora la domanda che ti poni è, ma se lo Stato è sempre più necessario, è sempre più insufficiente? Perché ci sono altri pezzi sulla scacchiera. Questi altri pezzi, le regole del gioco, come le stiamo costruendo? In che modo dovremmo procedere? Perché vi ricordo, questa è la parte della comprensione, cioè dire, se io almeno il meccanismo, almeno teoricamente lo capisco. Poi posso anche sporcarmi le mani, la realtà è più complicata, ci sono vincoli, ci sono difficoltà, ma la comprensione, quella che tu hai in mente, ti aiuta un po' poi a fare i compromessi giusti per sistemare questo o quest'altro. Allora, tutto questo, la soluzione a quella domanda è stata per molti anni democrazia. Se qualcosa non funziona, democrazia. Ci guarda la Corea del Nord, brutto posto, come lo risolvi? Democrazia. Una bella dose di democrazia. Dice, hai visto Putin, Russia? Ma tu aspetta, gli diamo due punture di democrazia e vedrai come riparte. Ha funzionato per tanto tempo, ha funzionato in Sudafrica, ha funzionato con il muro di Berlino, ha funzionato in tanti angoli del mondo. Cioè, ogni tanto tu dici, ma sai che ci vuole qua? Dose da cavallo. Democrazia, democrazia, democrazia. E è una cosa buona, però allora il problema ti si sposta. Questo è David Sassoli, un grande italiano che è scomparso recentemente, e diceva, bellissima frase che io ho voluto riprendere, dice, guardate che la democrazia non è che è andata fuori moda, è che bisogna aggiornarla. Questo è un messaggio che io vorrei lasciare chiaro, non è che la dobbiamo buttare, ci mancherebbe. Facciamo stare, poi stiamo anche registrando. No, è che tu nel libro della democrazia devi scrivere il capitolo successivo, lo vuoi aggiornare. Allora siamo arrivati, dopo questa premessa un po' veloce, e dire, ma abbiamo un problema nel capire qual è la difficoltà dietro al problema. Vi ho detto un po' di Westfalia, un po' di trasformazione. Stiamo mettendo le mani qui e di lì, è dai tempi almeno di Olivetti che le cose non vanno bene. Non abbiamo fatto un buon lavoro, qualcosa bisogna anche migliorarlo. Insistere sullo Stato come unico oggetto è un po' fuori luogo, sembri riscelie, per intenderci. In realtà a qualcuno, anche ai sovranisti di turno, glielo devi spiegare, ma non per cattiveria, che il mondo non funziona più così, e che quindi ci sono tanti agenti sulla scacchiera, bisogna anche giocare con gli altri agenti. Come costruiamo questi agenti? Questi sono i problemi che abbiamo tra noi. Bisogna aggiornare un po' la democrazia. Ma qual è? Allora, se la democrazia è la soluzione, qual è la difficoltà che sta dietro la democrazia? Vi ricordate? La democrazia digitale? Ecco, la democrazia è una soluzione in crisi. È una soluzione in crisi perché purtroppo non è banale dire, ma sai, basta il dibattito, la discussione. La democrazia è entrata in crisi con una sua problematicità interna. Adesso le cose che sto per dire potrebbero essere mal comprese, quindi attenzione. Il concetto di resistenza in Italia è un concetto molto forte, perché ha ovviamente radici nella Seconda Guerra Mondiale. Ma è anche di tipo medico, ed è in termini medico che io sto parlando. La democrazia ha sviluppato una sua autoresistenza, cioè resiste a se stessa, un po' come quando tu utilizzi gli antibiotici. Troppo. Gli antibiotici sono una gran cosa, salvano la vita, ma se ne prendi troppi, poi non funzionano più. Se li dai troppo agli animali, eccetera. Noi abbiamo una crisi di resistenza agli antibiotici. Che cos'è che crea la resistenza agli antibiotici? Gli antibiotici stessi. Ne prendi troppi, esageri con gli antibiotici, l'antibiotico non funziona più. Allora il meccanismo qua, l'avete capito, banalizzo al massimo, proprio perché abbiamo ancora un po' di strada da fare. Abbiamo un problema. Questa nostra politica non sta tanto funzionando. Qual è la soluzione? Tanta democrazia. Però a un certo punto se tu abusi di democrazia, scadi nel populismo. E il populismo genera una resistenza alla democrazia. È come se l'ingranaggio non funzionasse più. Vi ricordate quando a casa quella vite, adesso la faccio e poi no, si è spanata. E adesso hai esagerato. Faceva forza, prendeva, ma esagerando e insistendo hai rotto il meccanismo. Ecco, il problema che a mio avviso sembra essere qui presente è un eccesso di democrazia, appunto di resistenza quasi antibiotica alla soluzione. Se questa è un po' la difficoltà, pian piano stiamo arrivando a mettere le mani sempre più vicine alle rondelle che non vanno tanto bene, dobbiamo anche vedere qual è una cosa che non ci deve distrarre. Dice bene, allora, problema politico. La democrazia è la soluzione. La democrazia ha una difficoltà. Troppa democrazia. Questo fino a qui l'ho capito. Beh, allora, certo, la democrazia... Il problema è che abbiamo la democrazia rappresentativa. È questa che non sta funzionando. Non è così. E questo Olivetti purtroppo, quando scriveva nei suoi anni, ha preso un abbaglio. Ricordate? La democrazia senza partiti. Attenzione, i partiti sono fondamentali. Fanno parte della soluzione, non del problema. Anche se dirlo oggi sembra un po' difficile. Devi fare un po' il filosofo per dire queste cose. Però vi assicuro che è così. La democrazia rappresentativa ci viene rappresentata come parte della difficoltà. Se soltanto potessimo essere tutte e tutti coinvolti, vi faccio vedere tra poco da dove viene questa storia, se soltanto la democrazia fosse una cosa più vicina all'individuo, a chi vota. Ma in realtà questa idea, che sia il problema della democrazia, la sua natura rappresentativa, genera un'interpretazione della democrazia che va o in termini di regole oppure di valori. Dice, ma guarda, ma tu per democrazia che intendi? Questo ve lo lasciamo per un'altra volta. Ma il dibattito tra intellettuale, guarda, la democrazia è una questione di regole. E altri dicono, no, no, è una questione di valori. Poi non si mettono in accordo, ma in realtà la democrazia è una questione, se tu parti proprio proprio all'inizio, di struttura. Di struttura del potere. Cioè tu devi spezzettare il potere. Se tu non lo spezzetti, cioè se tu non fai un po' uno spezzatino del potere, non puoi partire con la democrazia. Questo sembra un po' strano, e adesso ve lo faccio capire un po' io meglio, perché vi ho detto che bisognava fare un po' di lavoro. L'essenza, o questo lo dico soltanto io, per cui se non siete d'accordo siete in buona compagnia, l'essenza della democrazia non sta né inizialmente nelle regole, né inizialmente nei valori, poi ci sono anche loro, ma se tu scavi, 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 ricordate, metti le mani come se fossi un operaio sull'ultimo ingranaggio, quello proprio che fa partire tutto, è la separazione tra chi il potere ce l'ha e non lo gestisce, e chi il potere lo gestisce e non ce l'ha. Questo è l'inizio di qualsiasi democrazia. Salta questo e tu fai saltare tutto il resto, poi le regole, i valori, fai come ti pare. Non c'è nella democrazia, cioè se c'è l'identità tra chi ha il potere e anche chi lo gestisce, e chi lo gestisce ce l'ha, è finita. Per questo la democrazia rappresentativa non è, come si dice in altri contesti, un bug, è una feature, non è un problema, è una soluzione. Ti permette di separare, attraverso la sovranità del popolo che non governa e i governanti che non hanno la sovranità, la sovranità dalla governance. Questa separazione, che per tutti gli altri, valori, regole, è una sorta di compromesso, diciamo purtroppo, sai ci vogliono i rappresentanti, se soltanto fossimo noi andare lì. Non è così, perché se hai il popolo a comandare, e chi comanda è il popolo, hai unificato esattamente quello che andava separato, il che vuol dire che poi qualunque altra minoranza, chiunque non sia d'accordo, viene schiacciato, giustamente, perché chi comanda è chi ha il potere, chi ha il potere comanda. Una volta che tu hai identificato questo, allora la fine della democrazia ha tante fini diverse. C'è una fine nazista, c'è una fine fascista, c'è una fine comunista, c'è una fine populista, c'è Bolsonaro, c'è Trump, per restare fuori dall'Italia. Le alternative alla morte della democrazia sono tante. Hanno come identità questa sovrapposizione di ma io che sono stato eletto dal popolo ho il potere e lo gestisco. Questo, se avviene, è un disastro. Perché noi invece la pensiamo diversamente? È tutta colpa di John Stuart Mill. Adesso potrei andare a riprendere con uno importante. Ve la lascio lì, 1861, e ci racconta una favoletta, che io mi ricordo alle scuole, me la raccontavano anche a me. Dice, perché abbiamo la democrazia? Perché dobbiamo eleggere le persone? Eh, Luciano, guarda, perché se soltanto vivessimo in una piccola città in cui tutti potessero essere partecipi, informati, avere il tempo, allora, certo, quella è la vera democrazia. Un'Atene che non è mai esistita, io lo ricordo sempre. Atene, uccide, Socrate. Non ve lo scordate, perché quella è la vera Atene, il resto è una fantasia. Allora, lì che sarebbe veramente, no, purtroppo, come dice, eh, siamo tanti. E siccome siamo tanti, allora ci vogliono rappresentanti. Perché questa è una favoletta? Perché il digitale, questa favoletta, te la smaschera. E senti, John, vieni qua, un attimo. Adesso io c'ho un click. Si può fare. Se la vera difficoltà, alla fine del percorso, è che noi abbiamo una democrazia rappresentativa, perché non siamo pochi, eccetera. Oggi, la tecnologia digitale ti permette la democrazia diretta. C'è quella del voto col mio cellulare, tante volte quante voglio, nella modalità che voglio. E allora, caro John Stuart Mill, non è più vero che non possiamo farlo. E quindi, quella che sembrava un compromesso, in realtà è la soluzione. Dovremmo adottarla. Allora poi, sempre che John Stuart Mill, che non era tanto scemo, dice, no, guarda, diciamo, non era così. È quella che in inglese si chiama white lie. Cioè, io in realtà ti volevo dire un'altra cosa, ma mi sembrava facile dirtela in questo modo. È un po' come quando li invitano alla festa di Zia Peppa. Dice, guarda, e purtroppo, guarda, non posso venire perché mamma sta male. Poi ti dice, guarda, ho parlato con tua madre, sta benissimo. E adesso? E adesso gli devi dire che tu alla festa di Zia Peppa non ci vuoi andare perché ti fa schifo la festa di Zia Peppa. Allora, devi smascherare la white lie che abbiamo, così, assorbito dal 1861. Sono un paio di secoli che ce la stiamo godendo. Non è vero che noi abbiamo la democrazia rappresentativa perché se soltanto potessimo. No, no, la democrazia rappresentativa è fatta in modo tale da separare sovranità da governance. e quindi tu, anche se fossimo in un villaggetto, la dovresti separare questa cosa. Anche se fossimo dieci gatti. Anche se fossimo tanto qui a Bologna. Allora, questo è fondamentale. La difficoltà non è. Quindi, la democrazia rappresentativa è un'altra. E qual è? È che una volta che tu hai separato sovranità da un lato, cioè chi il potere ce l'ha, e governance dall'altro, chi il potere lo esercita, e li separi, poi li devi rimettere insieme. E si chiama consenso. E' quello il problema. Come costruisci il consenso in una democrazia in cui tu sai che devi risolvere la separazione, ma poi li devi riunire? Per separare e poi ricostruire insieme, questo è il problema di una qualsiasi democrazia rappresentativa che rappresenta la soluzione. Allora, a questo punto, di soluzioni, per migliorare, ve lo ricordate? Dieci minuti fa. Qual è la soluzione? Democrazia, democrazia. No, ma guarda, l'università però si è un po' rotta, perché si è rotta il populismo. Come mai il populismo si è rotto? Ma perché abbiamo esagerato nella democrazia? Ma tutto questo da dove viene? Viene dal fatto che non abbiamo ben compreso separazione, tutti i pezzettini. Questi adesso li separiamo. Bene, siamo arrivati a casa. No, perché adesso che li hai separati li devi rimettere insieme. Ma scusa, allora non stavano bene insieme? No, fa differenza se sono gli stessi o se invece li hai separati e poi li hai riuniti. Separare e riunire vuol dire che hai trovato un consenso attraverso il quale la gestione del potere è consensuale tra tutte le parti, non soltanto tra chi il potere ce l'ha e lo esercita e chi lo esercita ce l'ha. Ecco, tutto questo ti porta a la domanda come facciamo a migliorare la democrazia? Qui le soluzioni sono queste. Per una democrazia migliore puoi o migliorare la politica, una semantica di contenuti migliori, non per oggi, oppure la sintassi, diciamo le regole, le regole del gioco. Cioè migliori, diciamo come i cittadini operano tra di loro o i partiti. E ci soffermiamo soltanto con questo perché il tempo sta scorrendo e quindi dobbiamo iniziare a capire ah, d'accordo, democrazia rappresentativa, va bene, questo è lì che sta un po' il dente, insomma non funziona. Ma come facciamo a lavorare meglio? Possiamo lavorare con i suoi cittadini, migliorare i cittadini. Come si fa a migliorare i cittadini? Le soluzioni sono note. Questo è un teorema famoso, si chiama il teorema di Condorcet, a condizioni diciamo un po' elaborate, ma dice una cosa abbastanza semplice, più siamo meglio è. Tanto per farla semplice. Poi la matematica dietro è complicata. Ma se voi vedete la numerosità delle persone che giudicano dà la probabilità che la maggioranza ci azzecchi su quello che sta giudicando, si può dimostrare che aumenta. Cioè più siamo, più elaboriamo in tanti, meglio arriviamo a una soluzione buona. E quindi più votanti. Se fossimo in più, se aumentassimo il numero delle persone partecipanti, si arriverebbe a qualcosa di gran lunga meglio. Allora tu poi vai a vedere, c'è 37% di persone che non hanno votato. È gravissimo. Però non ho visto grandi analisi su questo. Ma se più di un terzo della popolazione non vota, caro Condorcet, quella curva te la sei giocata. Come si fa a mandarli a votare? Ci sono soluzioni. Uno li obblighi. Guarda, non è soltanto un tuo dovere, è un tuo diritto, è anche un tuo dovere. Ci sono posti dove è obbligatorio votare. In Australia, per esempio, o in Brasile. Però Brasile, non è che stanno tanto messi meglio di noi. Allora questa soluzione, vi ricordate, insistere su questo, forse non va tanto bene, perché lì è obbligatorio. Però c'hanno Bolsonaro. Adesso vediamo, perché non è sicuro. Può darsi che si siamo giù. Diceva bene, allora sai che facciamo? Non soltanto li obblighiamo a votare, ma più gente. Abbassiamo l'età del voto. Ancora più gente che va a votare. Benissimo, dov'è che si vota anche a 16 anni? Brasile un'altra volta. Allora, qui li sono obbligati a votare. Sono anche giovani e guarda che hanno combinato. Forse più votanti è una buona idea, ma sicuramente, al momento, guardate un po' dove sono tanti a votare. Non sembra proprio come dire, i fatti non denotano bene. Vi ricordate meccanismo, rondella? Ma proprio su questa rondella devo andare a insistere? Forse no. Sai che facciamo allora? Li miglioriamo. O questo è Rousseau, quello svizzero. Più li migliori, più sono intelligenti e meglio è. Quando leggi Rousseau, Rousseau dice sì, devono votare tutti, ma l'importante è che sappiano quello che fanno. Non fate votare gente che non ha idea. Questo sicuramente ci mancherebbe. Più gente che vota, più intelligente, più informata, ci siamo. E questo non è una cattiva idea. Però, come vedete, è dai tempi di Olivetti che insistiamo su questo e non siamo andati molto lontani. C'era quell'altro lato, no? Ricordare la sintassi, le regole, come lavoriamo insieme. Partiti migliori? Certo, chi è che è il contrario? Partiti migliori ci mancherebbe. I partiti sono quel elemento a metà strada, a meso, dove tu costruisci il consenso. Allora sono fondamentali, perché se la democrazia parte da una separazione, però poi ha il problema di rimettere insieme le cose, come fai a rimetterle insieme? Parlandoci l'unico con gli altri, creando un gruppetto, mettendoci un po' d'accordo, tu fai questo e faccio quell'altro, creiamo un programmino, e si è partito poi alla fine. Allora qua, anche qui, Olivetti, poverino, la prima metà del libro è meravigliosa ed è deprimente, dove ti dice quanto fa schifo la situazione della democrazia al suo tempo. E quella, ovviamente, la prendi, la fotocopi, è buona anche per oggi. La seconda parte è veramente preoccupante, perché è completamente sbagliata. C'è una democrazia in realtà che non ha più partiti, soltanto basata sulla comunità, tra l'altro, cioè, profondamente ed esclusivamente cristiana, ci sono rischi forti, insomma, anche di intolleranza. Attenzione. Invece i partiti sono fondamentali. È la colla che rimette insieme i pezzi. Dici, ma scusa, allora, lo dico un'ultima volta, ma perché l'hai separati se poi li devi incollare insieme? Perché metterli insieme, dopo che l'hai separati, sta lì tutta la costruzione di quell'accordo dove è la minoranza a essere rispettata, è il debole a essere protetto, è la voce che non si ascolta, che ha anche una sua rappresentanza. Se no, è facile, no? Tanta maggioranza vince la maggioranza e gli altri chi se ne frega. È troppo semplice, non funziona così la democrazia. Allora, qui, i partiti a metà del livello non stanno lavorando abbastanza bene e andrebbero, in realtà, create delle organizzazioni che abbiano qualcosa di più, qualcosa di meglio. Anche qua, vi ricordo soltanto cose che sappiamo benissimo, vado un po' veloce perché il tempo è anche scarso, purtroppo i partiti non funzionano neanche loro, sono tutti i vicoli ciechi che abbiamo preso negli ultimi 70 anni. Perché non funzionano? Non è la moltiplicazione, cioè il fatto che ce ne siano troppi, la proliferazione dei partiti, l'errore. Anche qua, guardate a quello che succede negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Due partiti che non si riesce a modificare e che non permettono a nessun altro partito di emergere. Sarà difficile essere flessibili e articolati con soltanto sempre quei due partiti. L'Italia ha una struttura, veramente, adesso non è ironica la coda, è una cosa buona avere questa costante capacità di rinnovare i partiti. Oggi i partiti che sono in giro nel nostro Parlamento non esistevano soltanto alcuni anni fa. Questo è straordinario. vuol dire che il sistema si riesce a cambiare costantemente. Cambia male, ma cambia. E il fatto che cambi è già una cosa buona. Allora, qui, non è una battuta, è vero, cambia. E tu devi sfruttare quel cambiamento. Allora, qui, perché questa è una cosa buona? Perché c'è più competizione, c'è più dinamismo. In una società che cambia così velocemente, avere un sistema politico che crea partiti, li distrugge, ne mette un altro, li mescola, fa degli agglomerati, e questo ti dà un senso come se fossero delle start-up, un mondo in cui c'è un dinamismo. Questo mette di buon umore. Perché purtroppo non funziona? È perché il partito di suo, come tutte le organizzazioni, ha due elementi di interesse. Uno, di chi rappresenta, è l'altro privato, personale. Questo è vero di tutte le organizzazioni. E il problema è che c'è uno squilibrio tra A e B. Cioè, oggi il partito standard, oggi, cioè dai tempi di Olivetti, ha più interesse in se stesso che nei suoi rappresentanti. È questo squilibrio che fa sì che la creazione di tanti partiti in realtà non sia un bonus, ma sia in realtà un problema. Tu hai una moltiplicazione di partiti, ciascuno dei quali ha come interesse primario se stesso e non il bene di chi dovrebbe rappresentare. se soltanto si riuscisse a invertire questo rapporto. Allora, una buona democrazia è dove i partiti sono in competizione tra loro. Vi ricordo, è la colla che compete con altra colla per mettere insieme il consenso. E che c'è di meglio? Dove però questi hanno un buon equilibrio tra interesse che c'è sempre nella propria sopravvivenza, sono un'organizzazione che vogliono esistere anche domani, e un maggiore interesse nei confronti della protezione dei rappresentati. quindi un interesse altruistico. La partidicrazia è esattamente la rottura di questo meccanismo. Cioè, è un contesto in cui tu hai una cosa buona, separazione del potere, un'altra cosa buona, creazione del consenso, una terza cosa buona, vi ricordate, è un antibiotico, funziona bene, che è i partiti. Hai quasi il senso che i partiti potrebbero essere, no, altruistici più di quanto siano interessati a se stessi, purtroppo finisci nella partitocrazia quando questo equilibrio è inverso. Sono più interessati a se stessi che all'altruismo. A questo punto tu hai soltanto un accidentale sovrapposizione delle loro politiche con quelle che sono le politiche di interesse di chi li ha votati. Quando accade? Accade perché prima o poi finisce che il loro interesse sia anche di quelli che li hanno votati. ma è casuale. Ecco, questa casualità della sovrapposizione, degli interessi, di chi ha votato, nei confronti di chi è stato votato, questo è gravissimo. Vuol dire che tu lasci al caso il fatto che chi ti sgoverna azzecchi il fatto che seguendo i propri interessi finisce per fare anche un po' i tuoi. Questo, per sintetizzare quindi, è troppi partiti e troppo interesse selfici di questi partiti. E siamo arrivati quasi alla fine. Proprio adesso due minuti ancora di pazienza perché dicevo, tanta comprensione per fare un saltino verso una qualche soluzione. È qui che bisogna mettere le mani. Purtroppo, altro vicolo cieco, si pensa che si debba riformare i partiti. E non è così. Non è così sempre perché sono 70 anni che proviamo a riformarli. I partiti emergono come nodi nella rete. Se non ti piacciono i nodi devi cambiare la rete. Con una diversa metafora. I partiti sono come le rotonde. Se quelle rotonde in città non vanno bene hai disegnato male le strade ma non te la puoi riprendere con la rotonda. La rotonda finisce per essere quello che è perché lì arrivano le strade. Insomma, se è la rete che costruisce i nodi e non ti piacciono i nodi devi cambiare quello che porta a quei nodi. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di più competizione tra i partiti una maggiore distribuzione della loro capacità di inseguire di soddisfare gli interessi di chi li ha votati ma questo non si può fare. Guardate che è dagli anni di Olivetti in poi che abbiamo fatto riforme e tentativi riforme su come strutturare un partito ad esempio il finanziamento del partito. Quello è un tipico ragionamento per cui tu cerchi di cambiare il nodo senza cambiare la rete e non ha funzionato perché magari va bene magari non bene eccetera eccetera Allora qui arriviamo all'ultima parte che si può fare? Se tu pensi che il problema della partitocrazia che vi ho detto essere questa deriva è un problema diciamo che sta all'interno dell'oggetto che tu hai tra le mani cioè che sia un problema in realtà di intra-partitico è come se tu avessi in maniera questo oggetto e ci guardi dentro è qualcosa che non funziona al suo interno se soltanto potessi mettermi lì e dire i partiti devono fare le primarie tutti oppure i partiti non possono essere finanziati oppure i partiti possono essere finanziati fino a un certo punto oppure i partiti esistono soltanto con 5% in più tutte soluzioni che guardano all'oggetto e sono 70 anni che ci proviamo allora hai un certo approccio io quello che adesso vi dico negli ultimi 5 minuti è invece diverso non guardare all'oggetto che è quello che emerge dalla rete ma cambiare quello che è la rete che lo fa emergere cioè si può vivere con il 5% sì no si può vivere con il finanziamento sì no si può vivere con le primarie sì no non è lì la questione forse altro perché se fosse stata lì la questione con tutti gli esperimenti che abbiamo fatto negli ultimi 70 anni questa partitocrazia forse qualcosa saremmo riusciti a farla e non ci siamo riusciti allora guardiamo un po' le cose in maniera un pochino diversa e bisogna guardare nella seconda accezione cioè come se fosse un partito tra infra cioè tra quello che c'è tra i partiti all'interno della rete e questo è l'ultima cosa che voglio dire se voi guardate ai problemi che abbiamo di tipo etico sono quasi tutti non cose buone di per sé ma cose che rendono far bene più facile la neutralità la trasparenza la fiducia la privacy non sono di per sé cose buone moralmente ma sono cose che rendono poi fare il bene un po' più facile sono l'infrastruttura che rende l'etica più facile di cui la parolina infraetica pensate ad esempio alla trasparenza la trasparenza tu non la vuoi vuoi la massima opacità ad esempio quando voti tu non vuoi che qualcuno sappia che cosa hai votato la trasparenza non è una cosa buona diciamo pensavo la trasparenza non è così dipende dal contesto la fiducia la fiducia è una cosa bellissima dipende perché c'è il massimo grado di fiducia in una organizzazione criminale la mafia si basa sulla fiducia dice no però quella è brutta fiducia no è fiducia ecco quindi sono strumenti per far meglio ma se usati male nel contesto sbagliato possono portare ad errori allora qui hai bisogno di metterli in campo in modo tale che facciano il lavoro migliore quindi che facilitino o blocchino gli agenti e le loro scelte le azioni le loro conseguenze gli stati del sistema i suoi sviluppi nella direzione giusta è un po' come se io vi dicessi ricordare il meccanismo all'inizio meccanica cioè metterci le mani sopra è come oliare il sistema l'infraetica tutti quei valori e altri che abbiamo tanto a cuore sono la modalità di facilitazione di una politica che dovrebbe funzionare bene ecco questo comincia a essere già il barlume qualche piccola speranza di risoluzione facciamo qualche altro passo perché siamo quasi arrivati la attuale crisi quindi politica io spero di non avervi confuso le idee in maniera ormai irreparabile si può risolvere lavorando sull'infraetica di questo sistema cioè non andando a toccare i nodi del sistema ma in realtà andando a toccare i modi in cui questi nodi emergono e sono relazionati tra loro questo perché piccolo riassuntino così arriviamo alle ultime slides avendo seguito un filologico vi ricordate un po' una crisi politica lo stato di Westfalia necessario sempre di più sempre meno sufficiente come facciamo ci sono tanti altri agenti bisogna disegnare tutto questo in modo decente e qual è la soluzione quando abbiamo un problema tanta democrazia più democrazia ma la democrazia però anche lei è un po' zoppica ah sì sì certo perché è rappresentativa no non è perché è rappresentativa perché quello va bene ma allora qual è il problema è la costruzione del consenso è lì dove il populismo immediatamente comincia a infiltrarsi e quindi a fare l'effetto di troppi antibiotici un eccesso di democrazia hai esagerato e come facciamo allora a costruire il consenso il consenso si costruisce con i partiti allora servono i partiti ma come i partiti parte del problema la partitocrazia bisogna sistemare i partiti ah allora sistemiamo i partiti come se fossero tante cose e andiamo lì a sistemarle una per una come dire dargli una sorta di DNA eh no perché sono 70 anni che ci proviamo e non ha funzionato in realtà poi è un bene che i partiti siano un po' liberi di emergere rifarsi di controllarsi distruggersi mescolarsi mettersi insieme e allora come facciamo dov'è che possiamo andare a guardare una soluzione e potassi che io abbia preso un grande abbaglio quindi tutta questa ora ve la siete sprecata proprio se uno volesse dire ma guardiamo a qualcosa di proprio veramente di diverso sono 70 anni che battiamo su questi chiodi c'è qualche altro chiodo su cui andare a battere è quello che li lega che li fa emergere che cos'è questa roba ve ne ho parlato ne possiamo parlare molto di più è questa infraetica cioè questi valori che rendono più facile far emergere il bene ma che loro di se stessi non sono già valori preesistenti vi ho detto la trasparenza ad esempio la rule of law eccetera allora la crisi della democrazia oggi potrebbe essere vista come una crisi di quello che è l'infraetica è un po' come se uno dicesse guarda che il motore funzionerebbe bene se è bloccato perché non c'è l'olio che fa girare i meccanismi in maniera veramente più facile efficiente efficace se soltanto oliassimo meglio il meccanismo allora tutte le parti farebbero il lavoro giusto allora abbiamo bisogno in realtà di una infraetica per la politica questo è quello che serve oggi adesso voglio la spiegare al politico di turno come è che facciamo a riformare questo partito guardi serve un'infraetica della politica non ho grandi speranze su questo qui due elementi noi già li conosciamo non ne abbiamo mai messi troppo a fuoco ma la stabilità e il pluralismo sono due cose buone della politica politica stabile e pluralista gli altri due sono il fatto che debba essere rappresentativa e che dia anche di conto rispetto alle sue azioni e queste sono quindi le ultime due cose che voglio dirvi per farvi due esempi concreti in modo che scendiamo un po' a terra diciamo va bene allora bisogna lavorare sull'infraetica della politica sull'olio del meccanismo non sui meccanismi come? beh per esempio togliendo le liste bloccate le liste bloccate non sono un modo in cui i partiti sono strutturati sono un modo in cui i partiti si relazionano con tutto il resto fanno parte dell'olio sbagliato che non permette che funzionino bene oppure come hanno fatto ad esempio in Alaska avrete visto recentemente il cosiddetto rank voting cioè io devo essere in grado di dire non soltanto quella cosa che preferisco ma anche quella che preferisco un po' di meno ma che potrebbe anche andare bene io ho la mia candidata preferita ma guarda che la mia seconda candidata o candidato è anche qualcosa sulla quale potrei anche mettermi d'accordo se questa cosa vi sembra un po' strana ricordate un po' c'è un primario secondario come si elegge in Francia il presidente molto simile soprattutto che il ranking è completo tu puoi dare una catalogazione come votante di tutti quelli che si stanno presentando 3, 4, 5 persone che si stanno presentando per essere votate a quel punto chi vince è quello che raccoglie il maggior consenso non con liste strane decise in modo diverso eccetera eccetera allora perché questo vi ricordate all'inizio avevo detto attenzione al sottotitolo e siamo è l'ultima slide tutto questo passo indietro ci permette di capire il mondo oggi in maniera forse più adeguata da ventunesimo secolo abbandonare una visione della politica come se fosse fatta di cose e poi di relazioni ma che invece si imperni sul concetto di relazione che fa emergere le cose quindi è la politica che fa emergere i partiti non sono i partiti che fanno emergere la politica basterebbe questo switch questo cambiamento di ottica per far sì che noi si possa essere in grado di mettere le mani sulla riforma sul cambiamento per qualcosa di veramente più all'altezza dell'entremismo secolo siccome siamo partiti però con Olivetti Olivetti in questo un po' ci aveva già visto se fai tutto questo lavoro lo Stato sarà un mezzo affinché la società si esprima liberamente un'interfaccia grazie grazie